Dopo il recupero giocato ieri pomeriggio il notaresco ha accorciato le distanze dal campo basso. Ora sono tre i punti di distacco tra le due squadre con gli abruzzesi che hanno giocato una gara in più. Nei piani di Rosso-Blu non cambia assolutamente nulla, il bicchiere è sicuramente mezzo pieno, considerato che il notaresco ha vinto solo uno dei due recuperi a disposizione. Domenica si gioca la 29esima giornata, sei gare al termine della stagione, più ovviamente il derby in sospeso. La sensazione è che le prossime due giornate saranno decisive ed il campo basso deve cercare due successi per chiudere definitivamente o quasi i giochi per la Lega Pro. Tolentino domenica a Selvapiana, poi la trasferta. Alfadini contro il Giulianova, due sfide contro due società in lotta per la salvezza. Non sarà facile ma l'obiettivo è la portata. Tolentino avversario anche del notaresco domenica 23 maggio, mentre nella prossima giornata gli uomini di Epifani riceveranno il Cinzia Albalonga che vuole rafforzare la terza posizione in classifica. Cudini prepara la gara contro i Cremisi guidati da mister Andrea Mosconi. Obiettivo Lega Pro a parte, nella mente dello staff tecnico e della squadra c'è il ricordo vivo della sonora batosta subita a Tolentino. Un 4-0 netto senza appello per il Rosso-Blu, uno dei tre stop stagionali. Dopo aver vendicato Castelnuovo Vomano, ora è il turno del Tolentino. Le motivazioni, già fortissime per un traguardo sempre più vicino, si raddoppiano quando nella mente affiora il ricordo di una sconfitta così cocente. Sensazioni che chi ha giocato a calcio conosce benissimo e hanno senza dubbio un risvolto morale decisivo nell'affrontare il match. Cudini con ogni probabilità non avrà a disposizione esposito difficile il rientro per il fantasista di San Martino in Pencilis che potrebbe rivedersi a Giulianova. La formazione è praticamente confermata, l'unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Tengonang e Di Domenico Antonio. Dopo la scelta sorpresa di Re Canati con l'utilizzo di un centrocampista in più e Candellori spostato a supporto degli attaccanti, Domenica il tecnico marchigiano potrebbe tornare al consueto modulo con il sostituto naturale di esposito. In campo Di Domenico Antonio è l'ex di turno e in queste situazioni le motivazioni si raddoppiano sempre. Due giorni per sciogliere le riserve e operare la scelta migliore per una gara assolutamente importante per il cammino del campo basso. Infine tornano disponibili Brenci e Rossetti. Per il mediano possibile una convocazione dopo oltre due mesi di stop per problemi alla schiena pronto a dare un contributo importante alla squadra in questo finale decisivo di stagione. Rossetti fermo da dieci giorni può offrire una valida alternativa in attacco anche a gara in corso. L'FC Matese prepara la sfida al Vasso Girardi, al Ferrante e Matesini cercano il successo per confermarsi al quinto posto in graduatoria. Nel match d'andata chiuso sullo 0-1 grazie alla marcatura di Walter Ricci la scuola di Urbano ha preso consapevolezza delle proprie forze per una rimonta che si è poi concretizzata nel giro di due mesi. Pensate che nella sfida d'andata giocata al Ditella il Vasso Girardi aveva ben 15 punti in più dei Matesini fermi per diverso tempo per le problematiche Covid. Ora i Matesini hanno 8 punti in più dei Molisani un cammino che testimonia ancora di più l'impresa compiuta da Galesio e compagni. La sfida al Ferrante si preannuncia in equilibrio due squadre abituate a giocare sul terreno sintetico pronte a muovere la classifica per i rispettivi obiettivi. I gialloblu diretti da Prosperi dopo il pareggio maturato ieri a Fiuggi hanno bisogno di continuità, un punto importante in terra laziale dopo tre sconfitte consecutive. Ora Mercà e compagni hanno due punti di margine sulla zona play-out con ben tre gare da recuperare. Intanto è arrivata la sentenza del giudice sportivo in merito all'aggressione subita dall'allenatore del notaresco Massimo Epifani al termine del derby contro la Vastese. Il giudice ha inflitto una multa agli Adriatici di 2.500 euro e lo stadio Ragona è stato squalificato per una giornata di campionato. Quest'ultima sanzione motivata dal fatto che al termine della gara chiusa sul 2-0 per la Vastese alcune persone non identificate e riconducibili alla società entravano nella zona antistante gli spogliatoi e una di loro colpiva con un pugno al volto l'allenatore del notaresco. Solo l'intervento delle forze dell'ordine riusciva dopo circa 20 minuti a ripristinare la calma. Dunque per la Vastese la prossima gara a Casalinga non si giocherà alla Ragona sanzione prevista dalla prossima giornata considerato che ieri i biancorossi hanno giocato il recupero regolarmente in casa contro il Castelfidardo.